No, possiamo, bene. Allora, no, intanto parliamo però anche di attualità. Comunque non lo leveremo il crocifisso, possono morire. Il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche. Possono morire, possono morire. L'ONU è coi figli organismi internazionali che non condano nulla. Senta, ministro, lo sa? Io la penso esattamente come lei. Grazie.